Studio 7 TV Studio 7 TV Studio 7 TV Studio 7 TV Nella serata ci sarà il concerto alle ore 21 della banda Città di Cavalese Che andrà in diretta E prima del concerto avremo anche come nostro ospite Il maestro Feliciani Che presenterà un'opera Che ha scritto per la banda musicale Città di Staffolo Quest'opera si chiama Postcard from Staffolo e è stata editata dalla Scomegna. In occasione dell'uscita di quest'opera verrà a parlarcene un po' nel nostro paese, aiutato dal maestro Los, che è appunto il maestro della banda sociale di Cavalese. La festa si concluderà domenica 31 con le sfilate sempre noi padroni di casa ad aprire un po' le danze. Ci sarà la banda sociale di Cavalese, il corpo bandistico accompagnato dalle maggiorette della città di Petriolo, la banda di Fabriano e ad accompagnare noi di Staffolo ci sarà il corpo dei frustratori Cassani, che sono degli amici ormai che abbiamo fatto anche altre uscite insieme. Sarà uno spettacolo veramente divertente questo dei frustratori, perché sono delle persone particolari, uno spettacolo un po' particolare. Sì, sono sicuramente persone brillanti e divertenti che appunto suonano queste fruste, che non so, fa strano per gente che non li conosce, non l'ha mai visto. È una curiosità da non perdere. Li rivedremo anche la sera alle 21, che apriranno lo spettacolo della domenica, che sarà poi concluso dalla banda di Petriolo e dalla banda di Fabriano, che faranno il loro concerto. Tre giorni quindi all'insegna della musica, bande che sfilano per il paese, concerti nella piazza Leopardi di Staffolo, tre giorni di densi, di note musicali. Ma vediamo un po' questa manifestazione, Musica in Festa, come è nata, arrivata la 22esima edizione, che cosa è Musica in Festa? Damiano Cerioni. Musica in Festa, innanzitutto è nata perché volevamo fare degli scambi con altre bande dell'Europa o di fuori Europa. Non è facile andare fuori Europa, però con l'Europa abbiamo fatto moltissimi scambi, perché la banda di Staffolo è da anni, credo è dal 1980, che ha fatto tournée quasi in tutta Europa. E quindi che facciamo noi? Abbiamo pensato di invitare queste persone nel nostro paese a creare questo festival per poi ritornare nelle loro città o nella loro nazione. Quindi creando questo festival abbiamo iniziato a invitare tantissime bande da tutta Europa. E qui sul nostro libretto che abbiamo preparato per questa edizione che facciamo ormai da tempo, c'è l'elenco di tutte le bande che hanno partecipato alla nostra manifestazione. Ma qualche banda un po' particolare, magari quella che arriva da più lontano o che è un po' particolare per qualche motivo? Ce la vuoi anticipare? Io ero giovane a quei tempi quando ho iniziato questa cosa. Per esempio c'è stata l'orchestra del Conservatorio di Mosca, c'è stata l'orchestra delle televisioni di San Pietroburgo, c'è stata la banda dell'esercito ungherese, c'è stata la banda dell'esercito italiano, quelle più grandi. Poi ci sono state tantissime bande di tanti altri posti, c'è stato Javier Girotto e Gli Ataman, Javier Girotto è uno dei sassofonisti maggiori argentini, c'è stata la Color Jazz Orchestra, che è una dell'orchestra secondo me più brava italiana, ma è marchigiana. Quindi abbiamo avuto tantissime persone e tantissimi personaggi importanti. Quindi volevo oltretutto ringraziare tutti gli sponsor che sono in questo libretto, che ci danno la possibilità di aiutarci a partire per questa festa, perché servono di soldi, perché ospitando delle persone stanno con noi, mangiano con noi e bevono con noi. Anche perché quando noi ritorniamo da loro mangiamo e beviamo con loro. E a proposito di bere, a Staffolo c'è una cosa particolare, squisitissima, che si beve. Penso che tanti delle bande vengano anche proprio per assaggiare. Solo per il Verdicchio vengono, no, no. Il Verdicchio anche quest'anno è stato il primo vino bianco italiano al Vinitali. Cioè non vengono per il Verdicchio, a Musica in Festa vengono per suonare e per fare musica. Però durante Musica in Festa c'è una cosa particolare. Si innamorano del Verdicchio e noi che facciamo ogni anno? Prepariamo un'etichetta della festa con dei produttori diversi di Staffolo. Ogni anno abbiamo cambiato produttore e abbiamo cambiato l'etichetta per ricordare il momento della festa. E tutti quelli che vengono rimangono affascinati dal nostro Verdicchio. E rimangono anche affascinati dal vostro modo di accogliere le persone così caloroso e poi che dire, la banda è sempre sinonimo di festa, no? Quando c'è una festa si chiama la banda. Simona, invece la banda città di Staffolo. Ultimamente so che ha girato un po' per l'Europa. Dove siete stati? Siamo appena tornati dalla città di Papa che si trova in Ungheria. Siamo appena tornati perché è una tournée che è finita proprio l'11 luglio, quindi 15 giorni fa più o meno. Questo ci ha reso un attimo un po' faticosa questa organizzazione perché come al solito i preparativi sono tanti, le cose a fare sono tante. Essendo in Ungheria ci siamo trovati un po' con l'affanno. Però sono esperienze veramente molto molto belle e interessanti perché oltre a fare questi scambi musicali, cioè proprio conosci la cultura di questo paese. Quest'anno è stata una gita molto particolare perché oltre a fare noi il solito concerto soltanto della banda musicale città di Staffolo, abbiamo fatto un concerto insieme ad altre bande straniere. Eravamo noi, due bande ungheresi, una banda della Transilvania e una banda finlandese con accompagnati da due cori, un coro olandese e un coro della città di Papa. Quindi oltre a visitare la città, siamo stati anche a Budapest al lago di Balaton, abbiamo fatto molte prove per creare questo concerto che credo sia stata una cosa spettacolare e mai provata. È un po' la dimostrazione di come la musica sia un linguaggio che va oltre i confini, non serve parlare, è una lingua internazionale insomma, universale. È la musica che oltrepassa veramente la lingua, quindi si comunica con la musica. Damiano, questi tre giorni, 29, 30, 31 luglio a Staffolo, musica, buon vino, buon cibo, accoglienza e che altro? Allora, innanzitutto ci saranno delle mostre, grazie anche al Comune di Staffolo che ci dà a disposizione e dà a disposizione parecchi spazi per fare queste mostre. Una in particolare, volevo ricordarla perché è da tempo che la organizziamo insieme a un mio cusino di Roma che poi è lui che viene ogni anno a Musica in Festa a farci dal reporter, ci fa le foto, ci fa le cose, sta lì con noi. Allora abbiamo pensato di portare a Staffolo questa mostra che già è stata fatta a Roma sia nel 2015 che nel 2016. È una mostra fotografica su Roma che arriva però questa volta nelle Marche. Addirittura c'è il padroginio della Regione Lazio, della Regione Marche, del Comune di Roma e del Comune di Staffolo. Ma la cosa bella è che oltre a portare queste foto di Roma, questi fotografi da settembre scorso stanno venendo a Staffolo per fare delle foto di Staffolo che metteranno insieme a queste foto di Roma e l'inaugurazione sarà sabato 30 luglio prima di iniziare le nostre sfilate. Quindi vi invito a venire che sicuramente è una cosa molto interessante e finirà il 30 di settembre. Relateremo aperto fino al 30 di settembre anche perché le manifestazioni a Staffolo, come ben sapete, credo continueranno fino alla fine di settembre. E allora ricordiamo anche le manifestazioni che si susseguiranno durante l'estate 2016 a Staffolo perché è ormai notissima, conosciutissima la festa del verdicchio. Sì, ma dopo di noi ci sarà la festa del folklore, del gruppo folkloristico, poi ci sarà la festa del verdicchio, ci sarà il premio del verdicchio d'oro come gli altri anni, e arriveremo verso la fine del mese di settembre. Apposta le mostre le lasceremo aperte per tutto questo periodo. C'è stato la settimana scorsa il premio Città di Staffolo e tante altre occasioni per venire a visitare Staffolo durante il periodo estivo, anche perché c'è una buona aria e un buon vino, come abbiamo detto prima. E si mangia anche bene, questo ve lo assicuro, quindi i ristoranti sono buoni. Sicuramente. Simona, parliamo un po' della banda di Staffolo. Qualche numero, quanti elementi sono? E soprattutto tu sei la presidente. Com'è essere presidente di una banda di scalmanati, di banditi? La banda nasce nel lontano 1800, poi ovviamente per motivi si sono sciolti, c'è stata la rifondazione nel 1948. È una banda che ha fatto tantissimo, ha fatto tantissime tournee, siamo stati in televisione, siamo andati a Roma a visitare i vari papi. Adesso ci manca Papa Francesco, ma vedremo i provvedere quanto prima. La cosa bella di questa banda è che è una banda molto giovane. Accogliamo i ragazzini alla scuola di musica, iniziano verso 6-7 anni, e dopo i 3-4 anni di corso entrano in banda. Quindi abbiamo ragazzini che hanno 13 anni, ma abbiamo anche ragazzini che hanno quasi 80 anni ormai, perché non è detto che l'età anagrafica corrisponda poi all'età biologica. È un modo sicuramente per stare insieme e crescere, ti fa vedere il mondo in modo diverso, e suonare uno strumento secondo me ti apre la mente. Poi facciamo molte attività, andiamo all'estero, ma anche suoniamo in giro qui oltre, siamo stati a Fabriano al Teatro Gentile a Natale, è stata un'esperienza da lasciarci un po' a bocca aperta, perché non siamo abituati a suonare in questi contesti così importanti. E questa è un'attività che io consiglio a tutti di provare, abbiamo una scuola di musica con tre maestri, che è Mattia Zepponi, Paolino, il maestro Michele Paolino, e i bruscantini, che si occupano ognuno di una sezione, Zepponi degli ottoni, i bruscantini delle percussioni, e Paolino dei legni. Così i ragazzi sono seguiti ognuno da un insegnante che conosce bene lo strumento, fanno solfeggio, quindi un po' per la matematica ti aiutano, ti danno delle regole. Per i ragazzi che volessero tentare, a ottobre riniziano, faccio anche un po' di pubblicità almeno. Ma certamente, giustamente, anche perché la musica è stata ritrovata anche nella scuola come elemento, come una ginnastica per la mente, come vitamine per la mente. Quindi sicuramente i ragazzini che vengono a suonare nella banda avranno risultati migliori a scuola, oltre che avere anche una dote in più. Sì, sicuramente ti fanno socializzare con gli altri, perché sei in un gruppo e anziché stare mari tutto il giorno davanti al computer o con il telefono in mano, prendi lo strumento, esci con gli amici, anche la sera vai alle prove, poi vai a fare una birra, se sei un po' più grande, se sei piccolo, vai a fare una Coca-Cola. Però esci, entri in contatto anche con gente più adulta, con Damiano che nonostante i suoi 50 anni sembra che ne abbia 15 circa. Però sì, mantiene giovani, sicuramente. Sicuramente mantiene giovani, lo vediamo appunto dal presidente e dal segretario, siete giovanissimi. Ma non mi hai risposto, com'è essere presidente di Cotanti Banditi? Era voluto la deviazione. Hai glissato. Sicuramente sono succeduta a Damiano, che mi ha molto gentilmente lasciato il posto, pensando, io mi ero illusa che mi volesse fare un favore, invece no, era un po' una sofferenza. Però gli impegni sono tantissimi, perché di attività se ne fanno molte, i ragazzi hanno tantissimi impegni, quindi riuscire a creare sempre un organico degno di essere presentato è difficile, quindi bisogna contattare anche a volte ragazzi provenienti da altre bande e tutto. È un lavoro difficile, non si finisce mai, perché ci sono a fare le domande al comune, ci sono da sentire con la scuola, con la ricerca di contributi nella regione, nello Stato, che ovviamente non c'è mai. Però ovviamente io sono il presidente, ma senza una squadra sotto che è il comitato non farei nulla, quindi siamo una squadra, io metto soltanto la faccia e il nome, poi il lavoro è di tutti. Ebbene, sì, il lavoro di squadra è quello più apprezzato, è quello anche più redditizio. Damiano, vogliamo ringraziare anche l'amministrazione comunale per aver potuto fare questa festa, questi tre giorni di Musica in Festa, arrivati, lo ripetiamo, alla 22esima edizione. Sì, io ringrazio l'amministrazione, anzi l'amministrazione ogni anno ci dà il patroginio, abbiamo il patroginio anche della protezione civile che ci aiuta specialmente quando facciamo le sfilate per poter guidare le bande. Volevo ringraziare anche il nostro maestro della banda, che è il maestro Samuele Faini, che con tanto lavoro ci ha portato anche a fare dei bellissimi successi, lo seguiamo molto, è bravo e quindi noi riusciamo a fare delle buone cose. Volei anche ricordare l'Ambima, che è l'Associazione Nazionale Bande Musicali Italiani, che collaboriamo insieme a loro già da tanti anni, e loro ci stanno vicino per quello che possono fare, perché in un periodo come in Italia non è tutti cercano i soldi, cercano i finanziamenti, vogliono i soldi ma non è facile averli, però stare dentro un'associazione si può cogliere le cose migliori degli altri gruppi, delle altre bande, vedere come migliorare e come aiutare anche un'altra banda, anche perché un po' di esperienza ormai noi l'abbiamo fatta sul campo. Essendo nata la banda Città di Staffolo nel 1800, credo che l'esperienza non vi manchi. E allora noi insieme diamo l'appuntamento ai nostri telespettatori per il 29, 30 e 31 luglio a Staffolo, in provincia di Ancona, per poter assaporare questi tre giorni di musica e non solo. E ricordate che il 30 luglio potrete seguire il concerto in diretta seguendo Radio Studio 7. Studio 7. TV TV